Ciao a tutti, sono il prof. Walter Bini, mi occuperò anch'io di Apocalisse e tratterò il tema in un incontro con voi sulle applicazioni storiche del 666 di Apocalisse negli ultimi 500 anni, nei commentari ma soprattutto nelle Bibbie in volgare italiano. Quindi faremo una bellissima, credo suggestiva, rassegna storica dal 1500 praticamente al 2000 su tutte le applicazioni storiche del 666 e vedremo come la fantasia dei cristiani si è sbizzarrita per dire chi sarebbe stato questo 666 dell'Apocalisse. Spero di vedervi, è un'indagine storica e teologica, spero di vedervi numerosi anche al mio corso in questa magnifica piattaforma di Terre della Bibbia. Ciao e a maggio!